Valori contenuti di diossine dopo l'incendio di sabato sera. Arrivano i dati dell'ARPA in merito all'incendio sprigionatosi all'interno della ditta Albatros nella zona industriale Bayona la sera del 31 agosto. I risultati del primo campionamento mostrano una concentrazione di inquinanti molto contenute di poco, superiore al limite di quantificazione con assenza del congenere più tossico, mentre sono in corso le analisi dei metalli. Dopo che le fiamme sono divampate all'interno dell'azienda che si occupa di recupero e smaltimento rifiuti, anche di rifiuti speciali, oltre alle forze dell'ordine ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti i tecnici dell'ARPA e per verificare l'eventuale impatto ambientale del rogo. Un campionatore di aerosol è stato collocato a Marina di Ravenna, zona considerata significativa per le possibili ricadute dei fumi provocati dal rogo che hanno messo in apprezzione parte dei cittadini e dei turisti presenti sia in città sia nei lidi lungo la costa. L'alta colonna di fumo sprigionatosi dal rogo, infatti, era visibile a diversi chilometri di distanza. Mentre durante le prime fasi dell'incendio il vento molto debole proveniva da sud-est, spostando in quota la colonna di fumo verso nord-ovest, successivamente ha cambiato direzione verso est-nord-est. Il primo campione di aerosol è stato raccolto tra sabato, sera e domenica mattina per 12 ore. Il secondo campione è stato raccolto sempre a Marina di Ravenna quando l'incendio era ormai spento ed è stato raccolto per 24 ore tra domenica mattina e lunedì mattina. La raccolta del terzo campione, a scopo precauzionale, è tuttora in corso e continuerà fino a martedì mattina. Nella centralina di Ravenna San Vitale, sotto vento rispetto all'incendio, almeno nelle prime fasi, non si sono riscontrati valori anomali di concentrazione di polveri PM10 e PM2,5.